Sesta giornata di campionato, Sampdoria contro Blue Island, Sunday Cup 1-0 per Blue Island, grande papara di Miscillo dobbiamo dire, ma anche grande giocata di Maurizio Basile. Di Vito, si allarga per Mastro Giovanni, picco faietto melizzatro, fuori dall'aria, bravo arbitro, fuori dall'aria, bravissimo. Ricordatevi il mezzo metro. Posizione per la Samp. Orlando, l'arbitro sistema la distanza, Orlando sistema i suoi compagni per la barriera. Angolo. Nuovo arbitro Davide, direttamente dalla federazione calcio Serie ATIB. Ci è avuto moltissimi complimenti ieri per l'anticipo di campionato. La Samp, grande giocata. Si allarga, Basile fa scorrere per il faro laterale. Diciamo che Blue Island hanno il solito schema 3-2-1. Il Zadro detto il cavallo. Vito anticipa Cimmino, direttamente in avanti. Vabbè, brutta partita finora. Si gioca più con il cuore che con la tecnica. La Samp cerca di impostare l'azione, ma i Blue Island sono sempre pronti a pressare. Fair play. Aspetta, anticipa di nuovo. Grande giocata di Carmine. Fallo laterale. Ci diamo il collegamento. Ringraziamo tutti i ragazzi della Sunday Cup che ci vengono a trovare ogni giorno sul sito skup.it. Ciao ragazzi, un saluto da Max. Grazie.